Ciao a tutti e com'è tornata con un nuovo video, in questo video volevo provare con voi questo prodotto qui, questa piastra qui, che ho trovato da Lidl a 19,90€ e io non ho appunto mai avuto una cosa del genere, nel senso che già tanto che ho una piastra per i capelli normale un po' che pensavo al fatto di prendere un arreccia capelli, perché alla fine io ho capelli lunghi e naturalmente non ci faccio nulla, nel senso sono così, in fondo sono un pochino ondulati, un pochino così, ma non ci faccio mai nulla quindi per magari qualche occasione in particolare ho pensato, ma ci può stare prendere un arreccia capelli per appunto qualsiasi cosa, tipo stasera esco, magari appunto volevo provarla e quindi ho pensato, vi l'ho chiesto su Instagram, mi avete inizio di sì, e quindi la proviamo insieme sono quasi agitata perché non ho mai provato una roba del genere, non ho mai fatto un video del genere mentre la apriamo, uh, vabbè non credo che ci voglia un genio per utilizzarla, non credo che ci voglia un genio per utilizzarla ecco qui, il prodotto, ce l'abbiamo fatta ok, io l'ho presa con questo diametro qui perché ho pensato che appunto avendo i capelli lunghi preferisco delle onde più... c'è scritto che era in ceramica si presenta così, in poche parole qua gira le solite cose qua sotto ha i piedini in modo tale che non tocchi la superficie non ce l'avevo pensato, quando l'ho appoggiata mi sono resa conto della cosa ho detto, ma pensa, che persone intelligenti ah, aspettate, lampeggia oddio, ma è già calda ma è what? wow ok, 120 è il minimo ok, guardiamo il massimo 185 è il massimo qua ti dice appunto 185 no io proverai un 140 vediamo qualsiasi no, vabbè ma cosa vuol dire? lascio giù questo e tiro su un pezzo di una parte di capelli così proviamo prima in fondo che se viene male in fondo almeno non si vede no, belli, sì, belli i capelli lunghi sì, sì non so come metterli madonna che odio estrema in questi momenti per cui capite perché io non faccio mai nulla ai capelli che mi vedete sempre allo stesso modo vabbè lasciamo stare allora prendiamo ciò che è dietro e alla fine fine sono due provo no, aspetta come si usa panico aspetta eh, no oddio è venuto what? no, vabbè oh è il mio primo boccolo della mia vita no ma che cosa carina no, adesso le facciamo tutti ho capito il meccanismo mamma mia si sono avanti alziamo un pochino però proprio poco poco eh, facciamo 150 riproviamo sempre questa ciocca perché non mi piace molto perché nel senso è solo la fine oddio, aspetta non sono capace si nota? ecco io c'ho l'ansia ok? c'ho l'ansia e io non ho mai l'ansia eh, vieni tanto in fondo ho i capelli troppo lunghi che noia allora proviamo a metterla così eh sono una persona intelligente o no? beh, un pochino ma non è proprio il massimo eh però sotto è carino mi piace vabbè proviamo a farlo di qua oh questo è venuto meglio cioè mi caso per un boccolo come se non so non avessi mai visto un boccolo in vita mia però è bellissimo cioè vabbè lo aspettino un attimo va bene allora faccio anche gli altri e poi vediamo il risultato finale bene ragazzi ho concluso finalmente ci ho messo circa mezz'ora forse anche qualcosina in più ehm essendo la prima volta essendo che ho capelli mega lunghi è normale me ne aspettavo forse più di mezz'ora fatta in 40 minuti cioè me ne ho messi tutti ero un po' noiosa come situazione però ce l'ho fatta e questo qui è il risultato non so se si vedrà bene aspettate che adesso vi faccio cerco di farvi vedere meglio eh allora questi ok questo è il risultato io devo dire che sono abbastanza soddisfatta perché io i capelli così non li ho mai 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 avuti cioè alla fin fine eh sono così beh direi che sono piacevolmente sorpresa cioè avete visto che io tipo what non pensavo fosse così fare i boccoli sto di fatto che mi piace come come dimensione non so quale sia ma al massimo lo scrivo qua da qualche parte se lo so eh sono 220 barra 240 watt 50 no sì watt 50-60 hertz e io ve la consiglio francamente mi piace tantissimo il diametro e anche chi magari i capelli un po' più corti vengono delle onde un po' cioè medie comunque vedete che non sono proprio strettissime sono normali bene ragazzi con questo il video finisce qui spero che vi sia piaciuto a me io sono contentissima di questo di questo acquisto sono contentissima di tutto quanto e spero che il video vi sia stato utile noi ci vediamo al prossimo un bacio ciao ciao